Siamo con l'azienda vinicola Mulit nei colli orientali sloveni. Che vino avete portato? Noi siamo un'azienda piccola e produciamo solo due tipi di vino, l'uvaggio bianco e l'uvaggio rosso. Ho portato tutti e due l'uvaggio bianco e l'uvaggio rosso. Che vinificazione avete? Se tende vinificazione facciamo per il bianco fa inox e il 20% di legno, invece il rosso fa solo legno, 18 mesi e poi fa un stop di almeno mezzo anno di bottiglia. Complimenti, particolare che è in un'ideologia piccola. Solo questi due vini qua. Solo questi due vini qua. Quanti ettari avete? Sono un'azienda piccola, abbiamo un ettaro e un pitigno, come si dice, singolo e la metà è composta da uve bianche e l'altra metà di uve rosse. Li abbiamo gli altri. Ciao, chiamo! Grazie a tutti.